allora eccoci qua guardate cosa è successo ieri perché diana del bufalo è andata in trentopic ieri davo ero dentro la macchina e due uomini a distanza di cinque minuti prima uno poi un altro alla bella bona in questo stato sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il cat calling ma siete falsi però siete davo ero dentro la mano allora ha fatto questa battuta e battuta non vuol dire che stesse scherzando o almeno sì ma che semplicemente stessi dicendo una cosa che pensa in modo scherzoso in modo divertente cioè lei ha detto a me diana del bufalo i commenti d'apprezzamento per strada mi piacciono tutti sconvolti vergognati lotte femministe di qua e di su di giù tu incentiva a fare il cat calling scusatemi ma una ragazza sarà libera di dire che gli piacciono i complimenti per strada o il mondo deve essere uniformato alla donna da copertina di repubblica che dice che le donne fanno quello che gli pare che il corpo il nostro decidiamo noi che di quelli su giù il femminismo i maschi cattivi men are trash tutte segregate quello è il modello di donna che va bene la donna che liberamente dice che apprezza i complimenti degli uomini mentre è per strada ed è tranquilla è un mostro siete dei radical chic vi voglio rimandare il mio video sul tutorial di come fare bene cat calling cat calling è un è dare un nome a una cosa e poi riempirla di tutto cioè ormai con le parole con le parole giocano davvero tutti c'è chi ci sa giocare c'è chi no c'è chi ci fa propaganda c'è chi ci fa dispetti chi ci fa malignità quello che volete ma spiegatemi perché una ragazza non può dire che a lei fa piacere ricevere complimenti per strada qual è il problema qual è il problema oggi sono andato allora oggi sono andato a prendermi un panino per plauso pranzo in un posto dove ci sono due signore bravissimi che fanno panini un po poco urmettini non vado spesso a pranzo entro e la signora fa aspetta aspetta i bei ragazzi gli serve gli serve la boss così un commento no ma che vuole essere ma che vuole ha detto pazza vengo qua oltre a panino mi guadagno una botta d'autostima e loro sono messi a ridere sapete perché io non ho iniziato a miagolare e a fare l'offeso e la vittima per dei complimenti fatti in questo modo perché non sono una femminuccia non sono una fottuta femminuccia chi è il bel ragazzo ero io gulliverisk incredibile ero io infatti tu vai là paghi quelli 4 5 euro per il panino e ti ci becchi pure bei ragazzi gli serve la boss a posto c'è un po tanto stima la giornata e io lusingato ho preso pure un bocconotto al cioccolato che è un dolce abruzzese ma perché uno non può dire che ci sono delle situazioni in cui complimenti di uno sconosciuto per strada fanno piacere le hai lasciato la mancia le ho comprato un bocconotto so che adesso qualcuno di voi si dice marketing diabolico hai ragione hai ragione va bene marketing ci sta ma ragazzi l'altro giorno sono caduto in un trucco pazzesco cioè io che lavoro in questo settore quando vengo truffato così va sicuro che facile allora ero ero andato al 3dx all'aquila esco c'era fuori il il pride mi si avvicina un ragazzo mulatto vestito da povero che c'era un foglio ok c'era un foglio e mi fa io dico a cavolo questo è muto l'associazione muti muti siamo persone che non possono parlare una cosa del genere e c'è scritto e fa vuoi firmare io faccio cavolo si firmo non so che che aveva sostegno dei muti certo che più non sono stati avuti avevo visto che c'erano già cinque firme nome tac città quando arriva la terza colonna c'era scritto euro è il genio che cosa aveva fatto la messa 75 45 50 92 cazzo quando sono arrivato alla fine ho detto oddio cazzo ma fottuto che idiota che sono io ho dato cinque euro cioè solo se lo meritava si meritava cinque euro ovunque non so neanche come sono arrivato qui perché stavo parlando del del cat calling comunque massima solidarietà a diana del bufalo che riguarderà tutti quanti essere una donna dello spettacolo ed essere considerata poi ognuno può interpretare come vuole una comica e lei semplicemente ha detto che le ha fatto piacere ricevere dei complimenti anche se era struccata mentre si trova in macchina quello che voglio dire a i bevitori di caffè nespresso presso il caminetto del circolo arci e che le donne non è che sono tutte uguali alcune donne apprezzano i complimenti per strada e questo non vuol dire che una persona diciamo nota un vip la chiameremo così che afferma ciò che affermato diana del bufalo sia diseducativo perché spinge altri uomini a comportarsi in quel modo spingere gli uomini a fare complimenti alle donne wow attenzione teniamoci lontano e il problema è che che non si capisce che il cat calling può essere una avversazione una forma di stalking e di molestia in base al contesto se tu sei nella tua macchina è un ragazzo ti vede e ti vede come una bella ragazza ti dice oa bellissima ma tu che timore c'hai qual è il problema come ti senti limitata nei tuoi spazi nella tua libertà se sei una cretina da circolo arci femminista e perché parti 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 prevenuta col pregiudizio che l'uomo che sta facendo un complimento te lo voglia fare per molestarti per darti fastidio o perché ti si vuole portare a letto alcune volte gogliarli alcune volte un modo da pavone per farsi vedere alcune volte solo da cretini e non c'è lo stupratore dietro questa azione o il maschio alfa figlio del patriarcato vabbè lasciamo perdere questo aspetto perché ieri mi ha veramente infastidito però la polemica è entrata in